bella a tutti forniters benvenuti su leontube eccoci in questo video di oggi per andare a vedere il negozio oggetti di oggi 28 dicembre 2023 continua il bandolo di dragon ball con freezer e cell star wars ancora luke skywalker deltaplano land speeder x 34 e il piccone fucile proiettili e l'assaltata sembra ancora esserci quello sotto poi ancora marvel remix ditpool ancora stile distintivo verge john wick e poi fascino fortnite queste sono tutte skin nuove di oggi milite d'assalto 800 vbac bianco accecante 1500 vbac con due stili slona innovatrice 1200 vbac bianco accecante 1500 su questi e mesmer 1200 con due stili utili anche zainetto verso decorativo per la salon uguale per bianco accecante anche e per milite d'assalto invece no le collaborazioni ancora eccolo qua john wick e eccolo qua richie morti tornano 15 triolo ric ce l'abbiamo già il bundle mega morti a 2200 vbac che ci dà la skin e dorso decorativo il piccone la schermata di caricamento e l'emote che si può ballare in con gli amici ancora un bundle del mister mi guardi con skin dorso decorativo piccone e scia questa nasce non deltaplano deltaplano tutto a 2100 poi il bundle reggina summer a 2100 ricco di oggetti con la skin il dorso decorativo il piccone forchetta e il deltaplano nave da combattimento 2100 possiamo sempre acquistarli singolarmente ma si va a spendere di più stranger things bundle stranger things 2500 vbac con diversi stili selezionabili abbiamo questa skin con tre stili che li andiamo tutti a vedere eccoli qua laboratorio di hawkins laboratorio di hawkins con la cuffia e qui lo stile 11 poi abbiamo il dorso decorativo un altro dorso decorativo quindi due diorama del gioco di hopper con più stili e poi due picconi la mazza di steve e la lancia di eddy e un emote con l'azione telecinetica questa uscita da poco tempo fa su fortman oggi per la prima volta tutti anche acquistabili singolarmente poi i soliti pacchetti the weekend le tracce jam nuovi attrezzi per il festival il controllo spaziale e il gelato i soliti bundle eccoli qua ancora validi ragazzi e quindi abbiamo visto una carrellata veloce davvero carini stranger things molto belli e anche i bundle di ricky e morti qui abbiamo anche lampegina milite bruciatore incursore bandi zenzero che c'erano già stati jonesi accogliente eccolo qua sempre in versione natalizia jonesi maglione caldo versione natalizia 800 vbacca per ognuna di loro pacchetti e c'è un pacchetto no no si chiama pacchetti il costume di con per la lego e anche lo zainetto il dorso decorativo e un bel piccone breaker bruciatore poi abbiamo mezzo inverno ecco lì quel bundle il bastoncino daddy davvero carino utilizzabile anche per lego fortnite il dorso decorativo il piccone il deltaplano e la schermata di caricamento tutto questo per soli 1800 vbacca e qui diciamo che termina il il negozio oggetti di oggi che è anche crashato quindi ragazzi mi raccomando se vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete un bel mi piace cliccate la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.